salve a tutti dal senno mariani in questo video vedremo come accendere come spegnere il wiko darful per accenderlo è sufficiente premere il tasto posto sul lato destro in alto questo qui ecco qua parte il brand wiko il modello darful hell sta caricando le varie impostazioni eccoci qua giunti al launcher iniziale sblocchiamo possiamo vedere che si è acceso correttamente e quindi possiamo spegnere ripremiamo il tasto d'accensione posto sul lato destro optiamo per spegni e spegniamo per questo video è tutto vi ricordo di seguirci nei particolari focus dedicati a wiko darful ma soprattutto nei canali social sottelencati un saluto da alessandro mariani da formobiles.info a un 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 Grazie a tutti.